Eeeh, siamo tutti ragazzi, io sono Gravevo, c'è un sempre nuovissimo video, oggi siamo ritornati su Wild Adventures Skywars Ragazzi perché non, eeeh, mi ho caricato video in questa ultima settimana, perché io dovevo caricare un video Solo che, eeeh, non me lo facevo editare con Camtasia, l'ho editato a uno Sony Vegas Pro 13 Mi laggava il video e quindi c'è il credo di farlo, era un nuovo gioco, la, eeeh, come si chiama, eeeh, la Terratec Ve ne porterò di nuovo in episodio, ok, eeeh, facciamo una partitella, bella bella, dai Ok, dai, sub iniziata Ah, un po' di armatura stavolta ce ne voleva 20, 20 è buono, 20 vlog Anche se fa schifo st'armatura ma E' pur sempre qualcosa da dovete ammettere Io vedo già gente che non ho capito Fatim Ok, io mi voglio costruire un santa pace, una bella Spadella Non come un'altra volta, stavolta so come fare Tra l'altro Io avrei paura di questo se viene qua Piede, punti, pantaloni Ok, prende a tre pezzi via Due Scabiamo Ok, ragazzi, io vorrei Ragazzi, quello là è tutto Ma ragazzi, tipo, quelli là Ragazzi, ma io perché sono così sportunato? Cioè Ah, che frecce Prego, sono poverello No X vendetta Sì? No Ti prego No No Come? Ragazzi, ma perché sono così sportunati i Skywars? Cioè Beh, io posso spiegare Faccio un'altra partita, dai Non sono proprio mai un pro gamer, ma No, non posso comprare No, ragazzi, io ho una brutta Un brutto ricordo con questa mappa L'altra partita Oh, mi Oh Non ci posso credere Mi sta dando una spada e blocchi Mizzia Me l'adoro Mizzia, se a me mi è capitato questo Agli altri mi è capitato un'armatura in diamante tutta inciantata C'è ancora un'altra cesta Sì, c'è il caschetto, è anche buono Ragazzi, io vorrei andare lì, ma Il problema è che Questo qua è una spada già in diamante So che viene da me No Guardate se avvieni, mi raccomando Non mi interessa Devi mettere sangue, capito? Minchia bastardo E' tasango One shotato, solo un colpo Vabbè, peraltro non voglio dare una spada in diamante Ma Ragazzi, un po' di Ma Agli altri mi ha tutte cose super fighe Capisco che stavolta Io un po' di armatura ce l'avevo Ma l'unica cosa cambia vera Tra un armetto In ferro Un armetto in ferro Un armetto in diamante E tra una spada in pietra E una spada Magari faccio l'ultimo Guardate ragazzi, comunque è una sofferenza Perde così Ma io cado giù Magari qualcuno potreste fare team Dandomi delle cose Oh Un po' di anguria Oh Mi ci montavo l'enchantment Speriamo che acqua buona Può sempre servire E della tirnetti Magari posso fare Ancora frecce Blocchi Niente, non mi lascio dietro E della carne Niente, c'è la formaggio Mi rendo tutto il suo legno E poi lo quadruplico So Barretto Io non so se quella ha arco e frecce. Però mi sono accorta anch'io che non abbiamo armature. No, lei sì. Magari se usano pozzini invisibilità. Non so cosa fare. Cioè. Ho aumentato il vuoto ma vabbè. Dettagli. Aspettate un attimo comandi. E aspettate un attimo. Shift. Corsa. Pogna furtivamente. Ok. Ho messo. Ok dai. Sono pronta a farla. Ragazzi stavo premendo il testo. Ho spremuto il testo per la corsa. Aspettate. Ma perché premio il testo da corsa? Ok. No. No. Mi ha vettato un uomo Vabbè ragazzi il bio si conclude qua Ancora morti Ragazzi è una coincidenza Tre morti Nello scorso video di Skywars Tre morti adesso No no Vabbè ragazzi Dopo le mie coincidenze Di cazzo Oggi ci occuperemo di una scritta Assai misteriosa Ci vediamo al prossimo video Ragazzi Come ben sapete Immagino un'idea di blocco Oppure anche One command